Sfiltrazione Sfiltrazione Teoricamente sì Sfiltra 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 Emilia 260 Tutti a bordo Abbiamo il pilota a terra Abbiamo un pilota? Occhio Non scendere Tutti a bordo tutte le stagioni Occhio Un po' di super Un po' di super Sfiltra E' tutti No non è vero danno critico ingegnere riusciamo a ripararlo ingegneri 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 abbiamo ingegneri riusciamo a ripararlo mi pare che funziona dai a bordo la vedo dura a pilotarlo eh tutti a bordo tutti a bordo a bordo attendo il via è scassatissimo abbiamo un ingegnere? negativo mezzo alle spalle fermo uscire hai detto uscire? Maurizio l'elicottero perde benzina perde benzina l'elicottero niente ci vuole riparazione l'elicottero 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 è la vera l'elicottero tipo Grazie a tutti.